Super Gossip Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e Donne dal 26 febbraio all'1 marzo rivelano che Ida Platano deciderà di chiudere definitivamente con Sergio, riaccogliendo in studio Mario Cusitore dopo averlo eliminato dal suo parterre di pretendenti. Ernesto invece finirà per deludere le aspettative di Barbara, dato che non sarà disposto a concederle l'esclusiva nella loro frequentazione. Per Cristina arriverà infine un nuovo cavaliere, ma la dama deciderà di mandarlo a casa. A distanza di un po' di settimane dall'inizio della loro frequentazione, Ida ammetterà di voler troncare il rapporto con Sergio, avendo capito che non è la persona adatta per lei. Una decisione che il cavaliere accoglierà positivamente, ammettendo che anche lui avrebbe voluto fare un passo indietro. Per la tronista, però, ci sarà spazio per il ritorno in studio di Mario Cusitore, pronto a rimettersi in gioco dopo la sua eliminazione. Il cavaliere napoletano tornerà così nel parterre dei pretendenti del trono classico e questa volta Ida Gigi concederà un'ennesima possibilità. Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show, inoltre, rivelano che tra Gemma e Giancarlo ci sarà un nuovo confronto dopo che i due avevano scelto di chiudere la loro frequentazione. Nonostante il parere negativo della dama torinese, Giancarlo proverà a spiegarsi meglio dopo le incomprensioni dell'ultimo periodo con la dama, che tuttavia non sarà disposta a cambiare idea sul suo conto. Ernesto poi uscirà in esterna con un'altra dama e ciò scatenerà la gelosia di Barbara. La dama ammetterà di essere delusa dal suo atteggiamento, dato che non le sta concedendo l'esclusiva e così tornerà a risedersi. Il cavaliere, a quel punto, svelerà di essere propenso ad un tipo di amore libero, senza oppressioni e con massima libertà di azione. Per Cristina arriverà comunque un nuovo cavaliere interessato a conoscerla meglio, ma verrà subito eliminato. Nelle puntate precedenti del talk show, Barbara si era mostrata particolarmente propensa ad iniziare una nuova frequentazione stabile con Ernesto, pur senza nascondere di temere di incappare in nuove delusioni. Del resto, non è la prima volta che la dama verrebbe sedotta e abbandonata all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, dove, nel corso di questi anni di partecipazione, non è mai riuscita a trovare la persona adatta a lei.